Per il 2024 prevediamo un prudente più 1,2% di crescita, chiaramente il rallentamento soprattutto dell'economia tedesca, insomma impatta come voi sapete anche sulla nostra economia, sono economie fortemente interconnesse. Riguardo all'inflazione, secondo la Commissione europea, in Italia nel 23 e nel 24 sarà inferiore alla media europea, voglio dire solo una cosa sul PNRR, guardi, sul PNRR io penso che anche qui si debba fare i conti con il fatto che non c'è alcun ritardo, l'Italia è stata tra i primi in Europa a ottenere fondi, le uniche difficoltà che abbiamo riscontrato sono relative ad obiettivi che avevamo ereditato, penso allo stadio di Firenze, ho ascoltato anche le sue critiche, sono state per la verità un po' tardive, ma quello che noi abbiamo fatto è cercare di fare in modo che le risorse non andassero disperse per progetti che non erano finanziabili e che non erano realizzabili. Perché vogliamo mettere a terra quelle risorse? Penso che si vedrà anche nelle prossime ore il lavoro molto profigo che stiamo facendo con la Commissione europea, ma anche qua la speranza di certa opposizione che ha attifato contro l'Italia sperando che le rate non venissero pagate purtroppo finora è stata tradita. Grazie.